se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su xbox o vuoi le completi moddati non esitare a contattarmi, iscriviti a tutti i miei gruppi telegram, next gen e all gen e se siete giocatori di playstation trovate in descrizione gruppi anche per playstation iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale youtube e adesso al nuovo video bella regà, qua è Savix che vi parla in un nuovo video e bentornati perchè è nuovo nel canale ragazzi quindi iniziamo con il glitch ragazzi come entrare dentro la stazione di polizia però dove non è possibile accedere quindi dove ci sono le gabbie ragazzi allora iniziamo con il glitch e dobbiamo recuperarci una macchina abbastanza grossa per esempio un insurgente eccetera io userò il granger ragazzi quindi ci richiamo regà in questa posizione dove ci sta la polizia e una volta che siamo in questa posizione prendiamo il nostro granger pick up insurgente insurgente ragazzi un mezzo abbastanza grosso a questo punto andiamo a posizionarlo dentro queste scalette in diagonale ragazzi in modo che occupa tutto il posto dopo di che dovremo correre saltare e schiacciare quadrato o x se giocate da xbox vi farà questa animazione e sbada bam regà saremo all'interno della stazione di polizia ma ma c'è un ma ho scoperto regà che su next gen siamo veramente limitati possiamo stare all'interno per qualche secondo dopo di che in automatico ci sbatterà fuori quindi ragazzi lasciatemi nei commenti voi che giocate da old gen ps4 xbox one se riuscite a starci all'interno e se vi piace come è strutturata la galera di gta 5 online ragazzi spero che i miei video vi piacciono lasciate un like lasciate un commento supportate xavix condividete ragazzi iscrivetevi al canale e attivate la campanellina bella regà alla prossima